Buone notizie per il comune cilentano che da diverse settimane è in apprezzione per i casi di positività al covid-19 riscontrati tra i cittadini. Grande adesione da parte dei residenti allo screening di massa effettuato con la collaborazione operativa dell'Istituto Zooprofilattico di Portici nei giorni scorsi nel comune di Laurino. Si sono sottoposte al tampone nasofaringeo 414 persone. Molti referti sono stati già comunicati ai diretti interessati e tutti con esito negativo. Oggi nel comune di Laurino scade anche l'ordinanza sindacale imposta dall'ente per contenere il contagio. Abbiamo circoscritto i contagi nei nuclei familiari che purtroppo hanno contratto il covid. Ci auguriamo, dichiara Gregorio Romano, sindaco di Laurino, che presto il comune possa di nuovo tornare alla normalità. Buone notizie anche per il comune di Castellabate che nel report serale di ieri 17 giugno ha comunicato zero casi positivi. Ne siamo fuori, commenta il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri, ma continuiamo ad usare la prudenza e il senso di responsabilità individuale. Il mio affettuoso pensiero va a tutti coloro che hanno vissuto l'esperienza del contagio. Rimarrà nei loro pensieri, ma oggi è qualcosa che appartiene al passato. Con l'auspicio, conclude la Maiuri, è quello di non dover più fare aggiornamenti covid-19.